Ciao a tutti e benvenuti al dia 19 del calendario di avvento di Beagle Needs. Ciao a tutti e benvenuti al giorno 19 del calendario dell'avvento di Beagle Needs. Ieri abbiamo fatto la sezione 3 e oggi faremo la sezione 3, che sarà molto 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 breve, così se ieri non avete fatto in tempo a finire la sezione 3, la potete finire oggi. Ayer hicimos la sezione 3, questa con la bodoque, están navideños, e oggi vamos a hacer la sezione 3, che è molto molto corta, solo due volte, per tanto, se non potete finire la sezione 3, la potete finire oggi. Pues ben, vamos a vedere che è quello che abbiamo fatto. In la volta numero 1, nel ferro 1, cominciamo facendo i due ferri del light cord, 3 diritti, 3 diretti, 3 diretti, facciamo le due voltecini del light cord, lo passiamo a la aguja izquierda, li passiamo al ferro di sinistra, e altri 3 diretti, e altri 3 diretti. Ora vamos a fare una lazata, de so facciamo un jetato, elaboriamo a diritto 76 maille, e fare del diretti, 76 punti, perché? Perché abbiamo che aumentato a lo largo di la volta 3 punti. Vamos a fare 76 punti, e fare un tigio delante e detras, ok? E poi fare un tigio delante e detras, poi fare un tigio delante e detras, poi fare un tigio delante e detras, e poi vamos a tigere del derecho hasta el 3 puntos antes del final. Allora, facciamo 76 maille a diritto, e facciamo un aumento, dobbiamo farne 3 lungo tutto il ferro, un aumento, lavora davanti e dietro, poi lavoriamo a diritto 77 maille, e facciamo un altro aumento, lavorandola davanti e dietro. Poi lavoriamo altre 76 maille a diritto, e facciamo un altro aumento, e poi lavoriamo a diritto fino a 3 maille prima della fine. Io finisco prima queste 76 e vi faccio vedere come fare l'aumento, anche se sapete già come farlo. Io voglio a tigere questi 76 punti, e facciamo un aumento, per che vei come si fa, se anche sapete già hacerlo, perché lo facciamo in il quadratito numero 21. Bien, già ho tigio 76 punti del derecho, ho già fatto 76 maille a diritto, e facciamo un aumento, lavorandola la maille sucessiva davanti e dietro. E ora vamos a fare un aumento, tejendo por delante e por detras, il siguiente punto. Veis? Simplemente hemos tigido por delante e por detras. Poi, come ho detto, ora vamos a tigere altri 77 punti, e facciamo un altro aumento, altri 76 punti del derecho, e altri aumenti, e poi del derecho fino a 3 maille prima della fine. E adesso, come ho detto, facciamo 77 maille a diritto, un altro aumento, 76 maille a diritto, un altro aumento, e poi diritto fino a 3 maille prima della fine. E ci vediamo lì per vedere cosa fare. già è arrivato a 3 punti antes del final, sono già arrivato a 3 maille prima della fine, facciamo un gettato, facciamo una lazada e traiamo l'ilo delante, portiamo il filo davanti e passiamo le 3 maille, e deslizziamo i 3 ultimi punti. La volta 2 di questa intersezione, e la ultima volta della intersezione, e il ferro 2 è l'ultimo ferro di questa intersezione, sarà così. Facciamo la 2 volta dell'I-cord, facciamo i 2 ferri dell'I-cord, 3 diritti ancora, 3 diretti, e ora facciamo la lazada e diretti, diretti, gettato, diretti, e diretti, fino a 4 punti antes del final, e diretti fino a 4 maille prima della fine. Al final facciamo la lazada e diretti, nel quarto punto, e poi passiamo i 3 punti finali dell'I-cord con il filo davanti. Quando siamo arrivati a 4 maille prima della fine, facciamo un altro diritto, gettato, diritto, e poi passiamo le 3 maille dell'I-cord con il filo davanti. E questa seria la tarea per il dia 19 del calendario di Adviento. Ya veis che è super corta, os da tempo a terminar i retrasi che tengai. E questo sarebbe il compito del giorno 19 del calendario dell'Avvento. Vedete che è molto molto breve, così potete fare quello che avete ancora, se siete in ritardo su qualche giorno, potete mettervi, non so come si dice, potete, sì, aggiornarvi. E niente, ci vediamo domani al giorno 20. Un abbraccione. E niente, ci vediamo domani al giorno 20. Un forte abbraccio.